Ci siamo rivolti a Unitec perché volevamo coinvolgere un'azienda che fosse in grado di darci un sistema di lavorazione. Il nostro progetto racchiudeva in sé tre fasi del processo di lavorazione. Calibratura, selezione e confezionamento. Unitec ci ha dato tutto questo. Quando noi cominciamo a lavorare con Unitec, fu la prima calibratura che avevamo. L'impresa nasce in questo momento, era una piccola impresa con 1.500 toneladas di kiwi. Attualmente stiamo con 8.000 toneladas di kiwi che lavoriamo tutti gli anni. Credo che nel campo del comparto del kiwi abbiamo migliorato la selezione della qualità del prodotto. Non solo esterna, ma stiamo lavorando anche per avere risultati dal punto di vista interno, che chiaramente sono più rispondenti al mercato che si evolve, quindi alle esigenze di mercato del consumatore. Abbiamo poi lavorato specificamente per riuscire a valorizzare questi prodotti innovativi, come dicevo il kiwi giallo, tenendo conto sempre che va salvaguardata la qualità del prodotto stesso e addirittura anche bisogna lavorare per esaltare le caratteristiche organizzate del prodotto. Grazie alle nuove tecnologie Unitec sicuramente abbiamo riscontrato un risparmio nella mano d'opera di circa il 20% e un miglioramento nella qualità e nella standardizzazione del prodotto. I risultati in termini di produttività sono superiori di circa il 20% rispetto alle aspettative. Per noi questo è un grande successo. Per noi questo è un grande successo.